Pesciolini e pescioline, benvenuti in un nuovo video! Soprattutto benvenuti in un giro d'Italia, Dolci Fit! Siamo arrivati al centro, al centro del nostro stivale, al centro dell'Italia. Quindi è il momento del Lazio. Quando si parla di Lazio non si può parlare altro che del Maritozzo. Questo dolce nasce negli anni dell'antica Roma, quando le donzelle preparavano questo dolce forte e sostanzioso per i loro maiti. Ma un'altra leggenda che mi ha altrettanto più incuriosito è quella che i ragazzi per fare le proposte di matrimonio alle loro future mogli mettevano l'anello all'interno della panna. Voi vedete che tentavano di ammazzare le loro future mogli. E se a parte Lazio, in alto le pinne, andiamo in cucina! Ma prima di tutto, sigla! La vita ha fatto una pandemia! La scuola non si può parlare le loro future mogli. Lui è un'altra leggenda che guardano le loro futuro. Quasi la domenica! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.